Ed eccomi qua, dovrei essere in diretta Aspetto che arriviate tutti quanti adesso Al momento sono solo, soletto Vediamo chi sarà il primo a scrivere in chat Per quelli che stanno guardando invece questa live su YouTube, ciao, ciao a tutti Allora, il primo è Gabri, ciao Gabri Poi Anna Manno, ciao Barbara, Chiara Daniela, i fratelli M&G Samantha, Sabrina, Sabina scusa Ciao, 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 ragazzi Allora, questa live l'ho spammata tantissimo su Instagram, ovunque Perché ho un progetto nuovo Che secondo me sarà una figata E lo faremo insieme Appena entra più gente ve ne parlo meglio Intanto vi saluto, ciao Ok, la chat si sta iniziando a scaldare Siete un bel po', mi sentite bene, spero, vero? Lo dico già ora perché sicuramente Vabbè, ma tanto sono sicuro che dovrò ripeterlo Se a un certo punto vedete che la live lagga Oppure si abbassa di qualità, eccetera Assicuratevi di avere la massima qualità impostata Perché io sto streamando alla massima qualità Mi dice connessione eccellente Quindi qualsiasi sia il vostro problema di qualità Probabilmente viene dal vostro cellulare O dalla vostra connessione Quindi assicuratevi di essere connessi al wifi E di avere il massimo del massimo Ok Wow, siamo già a 1500 È iniziata da quanto? 10 secondi? Ah no, un minuto Da un minuto, ok Fammi chiudere sta roba che un attimo mi dà fastidio Ok Allora, come vedete Tanto poi lo spiegherò di nuovo Cercate di aiutarmi anche voi in chat Se scrivono che cosa sta facendo Come vedete mi trovo nel pacchetto RLCraft Che molti di voi secondo me si ricorderanno Perché ci ho fatto qualche video all'incirca 3 o 4 anni fa E questo è ufficialmente Il modpack Quindi il mondo Più difficile di Minecraft in assoluto Voglio vedere la vostra reaction È il pacchetto più difficile in assoluto Praticamente qualsiasi cosa Può ucciderti E non solo Vuole ucciderti Quindi ho intenzione di fare Un appuntamento settimanale in live con voi Dove cerchiamo di diventare dei pro in questo pacchetto Per sopravvivere Quindi è una vera e propria serie E dopodiché Voglio fare anche un video riassuntivo nel canale Dove faccio vedere tutta l'esperienza di un mese Che ne dite? Vi sembra una figata? Tra l'altro bello Perché qua sotto c'è proprio scritto il giorno Quindi febbraio 4 2023 Alle 15.01 Secondo me spacca Secondo me può essere un'idea o un'avventura veramente incredibile Ora Creiamo il mondo E vi faccio vedere di che cosa sto parlando È veramente difficile sopravvivere qua dentro Ci ho provato più e più volte nel corso degli anni E non riuscivo mai a restare in vita per più di 10 giorni Allora che nome gli diamo? Scegliete un nome Per chiunque scrive vedo sfocato Cercate di connettervi al wifi O di aumentare la qualità dal cosino di youtube Dalla rotellina Perché non dipende da me Io sto streamando alla massima massima qualità Mondo difficile Nome Flavio Perché proprio Flavio? Va bene lo chiameremo Flavio Eh dai ce la faccio a scrivere Ok Flavio Survival Non metto hardcore Perché è già abbastanza difficile Quindi No Vada per Flavio Pronti? E via Ok Ho proprio paura ragazzi Ho veramente paura di sapere dove spawnerò Ho paura di Ve lo giuro Qualsiasi cosa può letteralmente disintegrarmi in pochi secondi E farmi riniziare tutto quanto da capo Ci sono all'incirca 140 mod caricate All'interno di questo pacchetto O forse anche di più Ok Ah Maialini Delle facce tranquille Siamo in una foresta Beh dai qua non posso morire no? Ah eh sì ci sono anche i draghi Quindi dobbiamo fare un'ottima attenzione Cercare di capire Se siamo vicini A del pericolo Ma sembrerebbe di no Aumento un pochettino i suoni Così potete sentire meglio Benvenuti ragazzi Nella RLCraft La serie più difficile di Minecraft Allora probabilmente Eh ogni tanto laggerà un pochettino così ma Poco 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 Dicevo probabilmente vi starete chiedendo Ok vabbè adesso devi prendere la legna Non proprio Perché se dovessi prendere la legna in questo modo Prima di tutto ci metto 12 anni Cioè come vedete Non si sta proprio rompendo l'albero E soprattutto Non mi dropperebbe nulla Quindi Ciao Quindi quel che devo fare È prendere le pietre Quindi raccogliamo le pietrine In questo modo E con 4 pietre Potrò craftare Uno di cobblestone Ok Quindi queste cose ancora me le ricordo Perché queste sono proprio le basi Come vedete tra l'altro Aspettate che tolgo la chat Ok Qui Questa barra che vedete qua È la mia La mia La mia sete Quindi dovrò bere ogni tanto Per non morire Non solo mangiare Ma devo anche bere E questo cerchietto invece che vedete qua È la stagione Quindi io al momento sto morendo di freddo Perché mi trovo in cima a una montagna E fa troppo freddo Il che significa Che Devo trovare Wow Un posto un pochettino più caldo Quel mostro si è appena buttato Spostiamoci Ok Mi butto in acqua E dobbiamo cercare delle altre pietre Come vedete si sfoca anche la vista Perché appunto sto uscendo dall'acqua È tutto incredibilmente bello Incredibilmente dettagliato Allora Devo trovare delle altre pietruzze Perché così mi posso fare Qualcosa Mi posso fare un coltellino Con due di cobblestone E degli stick Quindi mi servono altre due pietre Raccogliamo quindi questa pietrina Eh 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 Ce n'è anche Dell'altra per caso Oh Comunque tutto questo cibo Tutti questi maiali che ci sono qua Sono P Ok ora prendiamo gli stick Con delle foglie Con un po' di fortuna Eccoli Uno e due E posso craftarmi La mia prima arma Che è Un coltellino Eccolo qua Non so perché ne ho fatti due Evidentemente me ne bastava uno soltanto Bene Con la prima arma Direi che dobbiamo ammazzare I maiali Dai Muori Ok grazie Così prendo La prima carne E Uh ci sono anche le pecore Perfetto Perfetto Così mi posso fare un letto Ok Speriamo che siano Abbastanza Che me ne droppino abbastanza Uno Salve pecorella Addio pecorella Ok siamo a due Prendiamo pure il cibo Perché ci serve effettivamente E Anche tu Mi dispiace ma Oh che è stato Ok Quindi vi dicevo Bisogna fare attenzione Veramente a tutto Perché Anche un albero Può ucciderti E non sto scherzando Anche un albero Può ucciderti Allora Quindi 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 Adesso che cosa devo fare Mi serve della flint Quindi devo andare Alla ricerca di un po' di gravel Per prendere la flint E poi spaccarla Contro una pietra In modo da avere Qualcosa di appuntito Da utilizzare Per tagliare gli alberi Vediamo Vediamo Avete visto della gravel In giro? Io vedo solo sabbia Ah eccola Ok prendiamo la gravel Che per fortuna Si può prendere a pugni E dobbiamo ottenere La flint adesso Non mi sembra Tanto difficile No 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 Credimi sto avendo fortuna Sto avendo molta fortuna Vedrai che appena faccio tipo Cento passi da qualche parte Trovo una creatura Che mi distrugge Oh ce la faccio Trovare per favore Della gravel Cioè della flint Dai Niente Ah eccola Ok quindi adesso Questa La devo spaccare Contro della pietra Quindi ho bisogno Di un pavimento Pietroso Un pavimento duro Per rompere questa flint Facciamo così Allora Uno e due No non metto La keep inventory Se muoio Devo rifare da capo Ok ho rotto la flint Adesso Con questa flint Che cosa ci posso fare? Ci posso fare Lascia No lascia non la posso fare Devo fare prima Ah certo Devo prima prendere queste Così ottengo Le fibre Giusto? Fammi vedere un attimo Se ho ragione No così mi da I semini Come si faceva l'ascia? Fammi vedere Ok questa non la posso fare Perché non ho ancora La legna ovviamente Ho bisogno di un altro Tipo di ascia Che è questa Ok flint Fibra E la fibra come si trovava? Ah si Mi sa che devo Letteralmente rompere questi Fin quando non trovo Della fibra Giusto? Non mi ricordo più È passato troppo tempo Fammi controllare Qualcuno di voi Se lo ricorda? Perché comunque Questo è un pacchetto Molto famoso Quanto dura la live? Eh un bel po' Dipende Più mi diverto E più durerà O comunque Prima di stancarmi Se non altro Se mi stanco Poi basta E si rifà La prossima settimana Cosa mi sono perso? Questo è un mondo Iper realistico Dove posso morire Da un momento all'altro Qualsiasi cosa Mi vuole uccidere Quindi devo cercare Di sopravvivere Tra l'altro Sto già morendo di fame E devo fare attenzione Perché mi sto addentrando In tanti nuovi biomi Che potrebbero essere Potenzialmente Veramente pericolosi Quindi questa sarà Una nuova serie Probabilmente In cui voglio diventare Bravo all'interno Di questo modpack Al punto da Completare tutto Battere ogni boss Perché ci sono Tantissimi boss Non c'è solo Render dragon Non è una mod È un pacchetto mod Quindi è tutto quanto Completo Pienissimo No Se lag di solito Significa che c'è Qualche mostro Di quelli grossi Qua vicino Quelli che sono Tacchini Ah ci sono anche le abilità Ad esempio Non posso prendere questo Perché ho bisogno Di abilità di livello 4 Da contadino Quindi dovrò Migliorare le mie abilità Per prendere Determinati oggetti Ok Abbiamo trovato un tacchino Però non mi ricordo Come fare Aspettate Allora Mi sa che devo fare così No O forse mi serve un altro Di flint Aspettate Aspettate Perché non mi ricordo Come posso fare Le cordicelle Con le cordicelle Puoi creare Dei nuovi utensili Perché al momento C'è soltanto questo Oh scusate Per il piccolo lag Ve l'ho detto Ogni tanto farà Una piccola frizzata Perché sta caricando Un mondo gigante Che cosa c'è qua dentro Ho paura Proviamo a entrare Ok proviamo a entrare Per favore Non mi uccidete Ho appena iniziato Sono buono vi giuro C'è non buono da mangiare Non mi mangiate No Qualcosa mi dice che Sarebbe meglio Non scendere giù Proviamo a restare sopra In superficie Che è meglio va Saliamo su Che è meglio Magari trovo una cesta No Ok però abbiamo trovato Della gravel Così in questo modo Mi posso fare Dell'altra flint E mi faccio qualcosa Per poi creare Gli utensili Perché mi sa che mi serve La flint intera Non quella rotta Non morire imperatore Eh sì Il problema è che È molto facile morire qua Devo fare tanta 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 attenzione Però ora stiamo avendo fortuna Ah tra l'altro Questa è la mia vita Come vedete Se prendo danno Tipo in testa Tre cuori di questo Muoio Se invece ad esempio Prendo danno nei piedi E finisco i cuori Nei piedi Poi non posso più camminare Per questo vi dicevo Che è estremamente difficile Ok Abbiamo trovato la gravel Fammi vedere se posso fare Come cavolo Si faceva Io Io ricordavo Che togliendo l'erba Trovavi tipo Delle fibre Per poi fare le cordicelle E invece non è così Sto leggendo la chat Voglio vedere se qualcuno Mi sta aiutando Eh Cosa Ok Allontaniamoci Qualsiasi cosa Sia quel bestione Potrebbe uccidermi Andiamo via Andiamo via Si 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 Ma forse sto sbagliando Tipo Aspetta Voglio cercare Knife Ok Posso fare un coltellino Di flint Ah E' così Ma dai Ecco perché non mi riusciva Devo fare così Ok Ora con questo coltellino Posso prendere Le fibre Per creare No 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 Qualsiasi cosa siete voi No Ecco visto che v'ho detto Che v'ho detto Eh Ehi 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 Via Via Lasciami stare Fermo Basta Basta Creatura mostruosa Muori Bene Perfetto Sono già mezzo morto Oh mio dio Scappa 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 Cioè guardate Sono mezzo morto Mi devo fare il medkit adesso Mannaggia Ok Eh non sono riuscito a prendere neanche Porca miseria Mi hanno interrotto Ok ora vi spiego Quindi con questo Prendo Le fibre Ok E con le fibre posso fare le cordicelle Bene Adesso mi servono degli altri stick Quindi devo prendere Le foglie Che vi ho detto Neanche dieci minuti sono passati Che subito Sono arrivati dei mostri a uccidermi Ok adesso così dovrei fare Esatto Lascia Oh Alleluia Perfetto In questo modo posso rompere gli alberi Ma dobbiamo stare attenti Perché gli alberi Ora lo vedrete In questo pacchetto Crollano E se ti cadono in testa Ti ammazzano Ok Dammi la legna Grazie Grazie Perfetto Almeno adesso abbiamo della legna Che come vedete Non la possiamo raffinare Mettendola nella crafting Perché avremo bisogno di questo Questo cosa qua Che si fa con due di ferro Lo posso fare in altri modi No Per forza col ferro Ok E quindi come faccio ad ottenere i planks Hmm Per forza con quello Ok È tipo la timecraft No 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 Non avete idea Questo è Allora io mi ero ispirato Per la modcraft A questo pacchetto Infatti come vedrete Tra non molto ci saranno dei mostri Perché già conoscete Qualsiasi cosa sia tu Non uccidermi Cos'è? No ok Mi uccide Ok mi uccide Mi uccide Mi uccide sicuro Mi uccide sicuro Corri 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 Via 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 Scappa 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 Ok Devo trovare qualcosa Tipo un villaggio Una casa Qualsiasi cosa Che mi possa fare stare Al sicuro Perché ora come ora Non posso neanche fare la crafting table Sto morendo di sete Quindi beviamo Ecco l'acqua mi avvelena Ovviamente Perché ho bevuto Un parassita Come vedete in alto A sinistra Fantastico Per evitare di essere avvelenato Dall'acqua Visto che sarà fondamentale Bere Devo farmi delle botte Ma cosa? Ma sono morto tutto in un tratto Bene Grande E indovinate un po' ragazzi Adesso È notte E c'ho dei dinosauri dietro Questa è stata la nostra prima morte Che fortuna Abbiamo trovato una casa Che fortuna Con la casa ragazzi Oh mio dio Se riesco a scappare Da questo zombie Che mi insegue Potrei trovare un letto E quella potrebbe diventare La mia casa Che cosa sono quelle Mongolfiere Non importa Non importa Non mi ammazzo Non le mongolfiere Ti prego Dimmi che c'è un letto No è una stalla È vuota Porca miseria Ok Sono morto Quindi adesso Devo rifare da capo Io Il mio obiettivo Quest'oggi È quello di diventare Un pro In questa modalità Cioè voglio arrivare Voglio arrivare al punto In cui non muoio mai In cui proprio Tutto quanto Diventa facile E al momento Non lo è Al momento Tutto quanto È molto difficile Allora mi faccio Un'altra arma Che faccio No 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 Sbagliato Sbagliato Fermo Fermo zombie Mi stavo dimenticando Questi li devo trasformare Prima in cobblestone E poi posso fare così Via Ok Adesso A te ti ammazzo Questo è poco Ma è sicuro Muori Muori Ok Eo Devo prendere Sta carne marcia È l'unica carne Che ho al momento Ok Là c'è un altro Dinosauro Quello che Cos'è un leone Cos'è una chimera Come si chiama il pacchetto Si chiama RL craft Ok Lasciamo perdere Cerchiamo di giocare In modo molto tranquillo Aia Il ghiaccio maledetto Bene Ci abbiamo Dall'altro cibo Quindi adesso Devo ripetere Gli stessi step Di prima Ovvero Farmi il coltellino Farmi la legna Eccetera eccetera E sperare Di non morire No Lo scheletro Se mi prende in testa Mi ammazza Mi può letteralmente Uccidere con un solo colpo Lo scheletro Non devo farmi vedere Dallo scheletro Prendi la gravel E dammi la flint Ci sono mod Della vita in città Non credo Non credo Non mi ricordo Perché Portavo i video In questa modalità Oh Ah è il ghiaccio È il ghiaccio sotto di me Che faceva quel rumore Dicevo portavo i video In questa modalità Circa tre o quattro anni fa Prima della modcraft Infatti ho preso Molta ispirazione Da questo pacchetto Per creare la modcraft Ok Facciamo così Tattica intelligente No 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 Che è sto pipistrello Fermo 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 Ti prego Ti prego Ti prego Sono appena nato Lasciami stare Qualsiasi cosa tu sia Ti prego No 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 Ecco pure lo scheletro Perfetto Aiuto Aiuto Chiedi le porte Sono salvo Vero Perfavore Ditemi che non possono aprire le porte Che vuoi tu Via Non compro nulla Vattene Ok Visto che sono al sicuro Facciamo che Prendo la flint qua Attiva le donazioni No Non mi piace avere le donazioni Preferisco fare questo qua Semplicemente in questo modo Divertendomi con voi Ok Questo lo possiamo spaccare Bene Abbiamo rotto la flint Mi servono degli stick Ma è pericoloso Qua fuori Ok facciamo Mi vede Lo vedete il pipistrello Non so se lui riesce a vedermi Io ho bisogno di questi Ok Via 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 Maledetto Maledetto mi insegue Ok quindi così faccio invece il coltellino E adesso Devo prendere Le fibre Non mi ammazzate Non mi ammazzate Non mi ammazzate Sono buono ve lo giuro Vi prego Ok Bene Che ansia sto pacchetto ragazzi Che ansia Bene Devo rifarmi l'ascia Mi servono altri stick Ho visto il pipistrello Ma mi sa che lui non mi vede Ok Ti ho Alla faccia tua Ok Siamo di nuovo sani e salvi Avrei bisogno di un letto Ma purtroppo non lo posso fare Perché ho soltanto due Di lana E me ne servono tre Abbiamo un po' di cibo L'ideale adesso sarebbe aspettare Fermi un attimo Fatemi vedere come si fa un piccone Posso farlo? Ok Lo si può fare nello stesso modo dell'ascia Però con più materiali Quindi Farmiamo dell'altra flint Questo che ci servirà Quando ritornerai a New York? Non credo presto Ok Benissimo Abbiamo dell'altra flint Me ne serve ancora Cosa stai facendo? Sto cercando di sopravvivere Al pacchetto Al modpack Più difficile Di Minecraft Più difficile di questo Non c'è niente Sì la live Verrà ricaricata su YouTube Così la potrete vedere Interamente Alla massima qualità Anche se è già Alla massima qualità Però alcuni Vedono male Ok Devo far prendere adesso Un po' No Vattene maledetto Mi servono delle altre fibre Aia Mi ha cecchinato Mi ha cecchinato Porca miseria No ragazzi Sono tanto così dal one shot Se mi prende un'altra volta in testa Sono morto Ma come cavolo si fa a sopravvivere Allora Oh qua è aperto Ma siamo folli Chiudi subito Ma subito proprio Ma sei pazzo Ah ma qua ci sono i planks È vero Forse posso sfruttare questi planks Per fare la prima crafting table Ti prego Posso? Sì Ok Ok Iniziamo a ragionare Non posso ancora fare il piccone Perché ho bisogno di più fibre Guardate Due stick ce li ho Quattro shard ce l'ho Mi serve però una stringa O una fibra Come faccio a ottenerla Senza farmi ammazzare da lui? Perché lui al momento Mi vuole ammazzare Allora Con questa carne Tecnicamente Dovrei rigenerare Molto lentamente La vita Quindi da No mi sa di no Perché è in hardcore Quindi ho bisogno di crearmi Delle bende Vediamo come si fanno Con della lana E delle fibre Uh Eh Io la lana ce l'ho Sono le fibre che mi mancano Ok Idea O meglio Più che idea Devo farlo per forza Perché se no Non proseguiamo Dai 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 Devo per forza farlo Devo rischiare Devo rischiare Devo rischiare Dai 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 Ok Dimmi che non ho preso abbastanza No Non sono ancora abbastanza Eh allora Se avete dei consigli Per favore Scriveteli in chat Grazie Perché sono un po' In difficoltà Dov'è lo scheletro Maledetto C'è lui mi ha cecchinato Da là sotto E guarda il pipistrello Ok forse se vado di qua Non mi vedo Arruffati tutto Pigliati ogni fibra Che trovi per terra Grazie 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 E ora torno Via Ok Ok Siamo sani e salvi Quindi Io posso fare Delle bende mediche Ok Adesso mi curo la testa Dai dai Cura 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 Ho curato la bellezza di Niente Mezzo cuore Meglio di niente Che succede? Oh oh C'è un mostro Qualsiasi cosa sia Questo mostro Non lo voglio in casa mia Grazie Ok curiamoci di nuovo Ah perfetto Sono tutto quanto al massimo Adesso Ottimo Basta fare Tasto destro sul log Cosa? No Non va Vedi Non va E' fatto apposta Devo farmi per forza La hash e tutto quanto Allora Adesso mi posso fare Un piccone Che è già un inizio Così posso farmi Tecnicamente La pietra Avendo tutta questa Cobblestone Pietra Piccone Ascia Tutto quanto Ok Perfetto Grazie Ti si sta rompendo il coltellino Ma si tanto non mi servirà più questo Tecnicamente non mi servirà più Perché adesso Appena trovo un altro stick Maledizione Devo uscire di nuovo Oppure aspetta Facciamo così Stavolta me ricrafto io gli stick Vediamo se posso Non è detto eh Perché hanno cambiato appunto I crafting E infatti non posso Visto Ok Quindi Devo per forza Prendere questo Dai Dammi lo stick Via 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 Torna dentro casa Ok Posso farmi la spada? Sì Oh Finalmente Finalmente Bene Sta piovendo Ottimo Sapete perché Ottimo No Tu non entri Perché posso bere L'acqua piovana E l'acqua piovana Non mi avvelena Tecnicamente No Però mi sa che Non ne posso bere molta Sento Battiti di ali Non mi direi che c'è un drago Nelle vicinanze Ti prego Non può essere Dai Sì Oh No Oh No 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 Un cellaccio Lasciami stare Lasciami stare Ok Forse un'idea Non credo sia una buona idea Mamma mia che paura Dicevo non credo sia una buona idea Perché Le caverne sono Estremamente spaventose In questo mondo Però Potrei trovare dei minerali Eh Che dite Se mi inizio a fare tipo Una corazza E robe del genere Ok Devo arrivare al livello 5 Per utilizzare una specializzazione Bene Sono sarcastico Male Malissimo Ok saliamo Con tutta questa pietra Quanta cobblestone potrò fare Oh è un botto Ok 16 di cobblestone OP OP Devo fare il piccone Quindi posso fare un piccone normale Fammi vedere Sì che posso Ottimo Lo scudo Come faccio a fare uno scudo? Ok il ferro non lo posso tenere Mi serve uno scudo diverso Questo Questo è soltanto legne e stick Stick che non ho Ogni volta Devo uscire a prendere gli stick Io mi pianto un albero in casa Così Avrò più stick poi Ok quindi posso fare lo scudo? Sì posso Devo prendere dei planks Curati Sono curato Visto? Sono al massimo Non ho bisogno di curarmi più di così Ok allora Prendiamo i planks Set Quindi com'era il crafting? No non era questo Era questo Ah così Quindi così Così E bastoncino Voilà Ragazzi Adesso abbiamo uno scudo in legno È ridicolo Devi bere dell'acqua Kendall Sì Ora la bevo un altro po' Bevo l'acqua piovana Togli lo scudo Eh non me la fa bere Non capisco perché Grazie per le ossa Quindi lo scheletro di prima È morto Proviamo a bere dell'acqua normale Anche se mi avvelenerà Infatti C'è una torre dungeon Ok ragazzi Credo sia arrivato il momento di Esplorare un pochettino Per favore non uccidetemi Qualsiasi cosa troverò Per favore Non uccidetemi Ok ho una bella spada Un'altra casetta Grande Grandissimo Benissimo Potrei trovare qualcosa di utile Spero Vivamente Fortemente Che cosa c'è? Una cesta Una cesta è chiusa a chiave? Ah Non sapevo si potessero chiusere la chiave Eh Allora Facciamo attenzione anche alle creature marine Perché Sono estremamente feroci Carne Grazie Beh adesso che ho lo scudo Potrei affrontarla secondo me La torre Che dite? Tecnicamente potrei farcela Sarebbe comodo avere un pochettino più di vita Di cibo Di cure varie Però Che cos'è questo? Il tallow Che cosa ci posso craftare? Un bel niente Serve soltanto per cucinare le cose Ok Metti lo scudo Giusto Bravo Allora Come vi dicevo Questa è una torre dungeon Che sembra anche vuota Ragazzi Se dovesse essere vuota È un colpo di fortuna Oh lag Dicevo Se dovesse essere vuota È un colpo di fortuna Perché se non ci trovo i mostri dentro Mi posso fregare tutte le ceste Senza rischiare la vita No c'è uno spawner Ok rompiamolo subito Ecco 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 Ah Ah quanto è veloce No no è invisibile Scappa L'avete visto? Ci sono le particelle Che mi camminano contro È là È là No 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 Addio Addio me la do a gambe Ciao È stato un piacere Porca miseria Neanche il tempo di Di avvicinarmi alla torre Eccolo eccolo Ho visto? Dite che ce la faccio? Vai ci riesci Sei un imperatore Va bene ci provo Guarda che questo però è forte Se ha le particelle arcobaleno Significa che è un boss E io ho solo una spada e uno scudo in legno E lui mi può avvelenare Ma che sto facendo? Ma sono impazzito Via Stammi alla larga Schifoso L'ho ucciso Oh mio dio Non li posso equipaggiare Non li posso equipaggiare Ho bisogno di Livello difesa 8 E io ce l'ho a 0 Ma maledizione Ma maledizione Cioè trovo una cosa buona E non la posso equipaggiare Ma non è giusto Ok aspettate Aspettate Credo di avere un'idea Mi basta Tornare un attimino in casa Perché devo controllare Un attimo i settaggi Per capire come Assegnare i livelli Se non sbaglio Si assegnano con I livelli che hai nell'inventario Quindi io al momento ne ho 7 Allora Ecco Quindi mining Crafting o combat Io direi aumentiamo combat No? Che dite? Che ho fatto? Ah ecco No questo è mining Combat Ok A livello 8 Posso mettere l'armatura Quindi aumentiamo Devo avere più livelli Per ora non ne ho abbastanza Posso aumentare soltanto Quello da arciere Arciere me lo fa aumentare Che mi costa 5 Ma non me ne faccio nulla Crafting Col crafting potrei aumentare La pesca Così da avere cibo E col mining invece potrei Prendere il ferro L'oro eccetera Aumentiamo il mining Dai Ok Quindi 1 su 10 Mi è costato Un bel po' di livelli Allora Se non altro siamo fortunati Perché Avendo la torre dungeon Così vicino Posso bere Acqua piovana Ok si posso Grande Dicevo Avendo la torre dungeon Così vicino Posso farmare tanti livelli E i livelli Mi serviranno per aumentare Le mie abilità Aumentando le abilità Potrò indossare l'armatura Voi siete Voi siete pacifici Vero Sì Ok Ammazziamo un po' di mucche Così faccio i livelli Grazie La pelle potrei Potrei farci l'armatura E cubaggiarla Effettivamente Dai Addio Muchas gracias Livello 3 Sapete cosa sarebbe OP? Trovare delle bottigliette D'esperienza No Tu mi sembri molto cattivo Oh porca miseria Se mi sembrano cattivi Scappa Ma che è quello? Il demonio? No 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 Col cavolo Col cavolo proprio Ok è morto Che faccio? Ci vado? Provo a prendere il loot Scusate Provo? Ci sono tipo dei demoni Forse è meglio di no No direi meglio di no Allora Piuttosto Iniziamo ad avvicinarci Alla torre dungeon Eh c'è un altro Di quei cavoli di gamberetti Stavolta però Secondo me lo posso uccidere Ok comunque Credo che adesso Abbiate capito Quanto Dicevo Comunque credo che adesso Abbiate capito Quanto è difficile Questo pacchetto mod Cioè Non si scherza Non si scherza Con nessuno PALLI Muori bella faccia Ok Muori Bene Non so che cosa ci posso fare Con le piume Ma il cibo Mi servirà Sempre Addio Grazie Allora Io devo provare A entrare E rompere sto spawner Dai rompi la distanza Muoviti 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 Rompi 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 Veloci Veloci Quanto cavolo Ci mette No Ho bisogno Di un piccone migliore Ce la faccio Cioè adesso Ce la faccio Perché sono fortunato Però poi I prossimi Non riesco È troppo lento E i mossi Potrebbero cadere Dallassù Ecco appunto Ah No 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 Signor scheletro Lei si fermerà Adesso Ripariamo subito La testa Muoviti Ok Per fortuna Che c'avevo la benda Però io voglio entrare Oh cavolo È pieno di uccellacci Senti Me la rischio No dai Non posso essermi Cioè ho rischiato La vita per Fermo Eh dai Ok Muori Ho rischiato La vita per delle uova Ma stai scherzando No Ah Che cos'è Ok Devo tornare a casa Devo tornare a casa Via 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 Mi uccide quello A me sembra cattivo Corro senza farmi vedere No Lo scheletro trombetta Eh Ok 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 No 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 Qua mi vogliono morto Quello mi sta per lanciare un creeper sulla testa Corri Eh dai Lasciatemi stare Ma che vi ho fatto Giuro che sono buono Corri 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 Dentro casa A me sembrano tutti cattivi Sono tutti cattivi Mi odiano Ok Allora C'è di buono che posso farmi Grazie a tutte le corticelle che ho trovato Degli altri medkit Con i medkit Posso curarmi un altro po' la testa Mi fascio Facciamoci la testa Ok Grazie Ora Mi piacerebbe fare una cesta Ma Chiaramente come potete ben capire Non ho i materiali per farlo Allora Intanto mangiamo C'era un lingotto Sì ma tanto non li posso usare Perché fin quando non sblocco il mining Eh Di livello più alto Non posso prendere Il Nessun minerale Quindi anche il ferro Visto Cioè non me lo fa indossare Però aspetta Ora c'ho otto livelli Posso per caso Aumentare qualcosa qui No Questo mi costa undici livelli Per aumentare i critici Ok Quindi questo qua invece Quanto costa pure undici Ma siamo sicuri che è questo Che devo fare? Non ho i requisiti Me lo devo studiare meglio questa roba Allora facciamo così Intanto butto un po' di questa spazzatura per terra E aspetto che si faccia giorno Ok Allora Che butto? Questo sicuro Via anche questo Questo Fiorellino non mi serve I semini potrebbero servirmi Per farmi tipo una piccola coltivazione Chi lo sa Gravel potrebbe essere utile Legna via Questo via Ok Che ci faccio con le uova? Sei morto Mi hai quasi ucciso Mi hai No muori Grazie Ok Abbiamo trovato anche una torcia Potrebbe essere utile È ancora notte? Direi di sì Ma quello sputa dell'acqua Dite che è potabile Secondo voi È là È là Si chiama Keppel Jengu Guarda che vuole entrarmi in casa Oh Ma sai quanto l'ho pagata io sta casa? Vai via Via Allora Tecnicamente adesso potrei fare un piccone normale Giusto? Fammi controllare Com'è che si faceva? Ah vabbè Che dico come si faceva? Si fa come i picconi di Minecraft Certo Quindi fammi prendere un secondino Degli stick Oh Incredibile che sono ancora vivo Credetemi Cioè Di solito muori dopo un minuto In questi In questi mondi Oh Questo è più veloce Ok Ok Sì Ora si ragiona Benissimo Con questo piccone potrei rompere gli spawner della torre Con molta più facilità E luttare quindi Il contenuto Eccolo Vai lancia l'acqua che me la bevo Ah No 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 Però non entrare in casa No 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 Non serve Ah Eh paura Non vieni Hai paura Dell'imperatore Vieni Forza Andati avanti Dov'è Eccolo Ah L'importante è che non entri qua Ah Muori Oh qualcosa mi dropperà Uccidendolo No Qualcosa di utile Aiuto Che mi ha dato Che è una magia Si Elemento acqua Projectal Acqua impulse Acqua pulse Quindi può essere utilizzato Per livellare i pet O l'equipaggiamento O parti di equipaggiamento Equipaggiamento d'acqua Oppure può essere utilizzato Per tirarlo contro qualcosa Qualcuno Ma dai Ma questa è acqua potabile Cioè io se io sto morendo di sete Faccio così La posso bere? No Ok Buono a sapersi Mettiamolo qua da parte Non si sa mai Era quello che tirava lui Si Tanto sei esperto con la magia Insomma In questo pacchetto non tanto Ok Prendiamo i livelli che sono utili Posso aumentare qualcosa adesso? Combat Niente Sono bloccato Io avrei bisogno di aumentare l'armatura Però non Non mi ricordo se era così Che si facesse Mi devo informare meglio Quello che devo cercare Assolutamente di fare È completare con la torre dungeon Perché secondo me La dentro Potrei trovare Nelle cose molto utili Allora facciamo così Innanzitutto mi faccio una Fornace C'è il ferro vicino casa Ma non lo posso usare Il problema È questo Perché fin quando non arrivo ad avere Il livello corretto Per indossare l'armatura Di ferro Non posso usare nulla di ferro Negli utensili Nella spala Nell'armatura Niente O addirittura forse Non lo posso neanche scavare Ok allora Io qua avevo buttato Della spazzaturina Ho preso Sì Ok Questa carne Questo grasso Di animali Mi serve per cucinare Che cosa posso cucinare? La carne Ok Beh Non sarà OP Però meglio di niente Con l'ascio Io così così Distruggo tutta sta casa Potrebbe tornarmi utile Mi sta piacendo la live ragazzi Avete lasciato un mi piace Vero? Nell'inventario a sinistra Si livellano le cose Dove? Ah Grazie Mi ero dimenticato E certo Ok Quindi io posso aumentare Ok 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 Hai ragione Quindi cose che devo aumentare Defense Giusto? Credo Questo che cosa richiede? Dice che non ho i requisiti Requirement Defense Ok devo aumentare Defense al livello 8 Quindi mi basta fare così? E l'ho già fatto? Ok Ora che livello è? 5 Bene bene Grazie Grazie Utilissimo Mi ero dimenticato Che si trovasse là A sinistra Ok in questo modo abbiamo anche del cibo un po' cotto Non male Iniziamo ad andare alla grande ragazzi Sono appena arrivato Che cosa mi sono perso? Ti sei perso che stiamo giocando al mondo più difficile di Minecraft Questo pacchetto con tantissime mod Circa 200 mod È estremamente difficile Ogni cosa può ucciderti E vuole ucciderti E non è un Minecraft classico Quindi per fare determinati crafting eccetera eccetera Devi essere Devi conoscere diciamo il pacchetto Quindi devi imparare Determinate nuove cose E ho intenzione di fare una serie Quindi ogni settimana mi piacerebbe fare una live all'interno di questo posto Dove Fin quando non divento veramente bravo Muori Forza Ti sto guardando Io e altre 5000 persone Sì sì Soffri Ehi Non esiste che resti in vita Eh Vai provaci Ah Non mi importa L'ho fatto per il gusto di farlo Che cos'è quello? Allora c'è un'altra benda No in realtà non mi serve Ah sì in realtà mi serve Per il corpo Come vedete ragazzi Questi sono cuori hardcore Testa e corpo sono hardcore Tutto il resto invece no Quindi questi li posso rigenerare Semplicemente mangiando del cibo Mentre invece Testa e corpo Questi due Li devo per forza rigenerare Utilizzando dei medkit O comunque delle bende Delle fasce Qualsiasi cosa che mi aiuti Appunto a Rigenerare la vita Ho bisogno di acqua Sì Ho bisogno di acqua Allora innanzitutto Posso aumentare ancora un altro po' i livelli? No Perché adesso Ogni punto di difesa Mi richiede 6 livelli Quindi 6 livelli Uguale un punto Ok Quindi Per ottenere questo Devo fare ancora un botto di livelli Però è già un buon inizio ragazzi Sarebbe Uh Proviamo a uccidere il ragno Sarebbe un ottimo inizio Poter equipaggiare Quei piedini Così almeno avrei un po' d'armatura Ok Sento qualcuno che batte delle ali Ah Cos'è? Aspetta Fammi vedere Ok E' uno di quegli uccellacci Non mi fido Non mi fido Non voglio morire adesso Dopo tutti questi sacrifici Sono vivo da 45 minuti Allora E se uscissi da quest'altro lato? Ma dai Le robe restano qua? Eh ma che figo Non lo sapevo Allora Devo trovare il modo di fare un botto di livelli E giorno Posso prendere il carbone? Oh mio dio Ecco come fare i livelli Pensavo che non lo potessi prendere Questo è utile Questo è fenomenale Cerchiamo di non farci ammazzare dagli uccellacci Vi ricordo ragazzi Che se vi sta piacendo questa live Che poi diventerà anche un video su youtube Cioè lo caricherò Sul mio canale Resterà carico Vi ricordo di lasciare un mi piace Quel cosa mi ammazza? Ci provo? Tu sei cattivo? E' incastrato Quindi qualsiasi cosa sia E' un vento raptor Non lo so Non mi sembra Oh no Non mi fa paura però eh Non mi sembra aggressivo Lui mi sembra aggressivo Che dite? Lo so che è incastrato Ma secondo voi è aggressivo Ma ammazza? Eh no E basta Questi scheletri Via Me ne vado Voglio provare a fare il dungeon Anche se non sono ancora equipaggiato benissimo E' molto aggressivo Si 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 Ah grande Buona sapersi Allora beviamo un po' d'acqua Anche se mi da L'avvelenamento Ma non importa Ok Allora Quindi Siccome tra non molto si fa di nuovo notte E io non voglio rischiare Di affrontare i mostri La notte Proviamo a salire Sulla torre dungeon Questa potrebbe potenzialmente Essere la mia fine ragazzi Potrei letteralmente morire Da un momento all'altro Però ho bisogno di farmare i livelli Per indossare l'armatura E credo che questo sia il metodo Più veloce per farlo Saliamo Ah il piccone ce l'ho Lo scudo pure Piazza e blocchi Piano piano Quatti quatti In silenzio C'è qualcuno? E' vuoto Ok Ok Lo prendo Grazie Cerchiamo di non rischiare troppo Basta Vado via Per adesso basta così ragazzi Allora Quelle ninfe Che vedete là Quelle creature In genere Sono buone Cioè Se sono rosa Ti rigenerano la vita Le altre Non ne ho idea Modpack Si chiama RLCraft Questo pacchetto Ed è il pacchetto Più difficile Di sopravvivenza Di Minecraft Mai creato Ok Ok ragazzi Ehi Ce la stiamo facendo Siamo bravi Vero? Grazie ai vostri consigli E alle mie skills Nelle abilità di sopravvivenza Stiamo facendo un ottimo lavoro Damme 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 Pum 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 Bene Oh fa caldo Vedete questo cerchietto Qua in basso? Indica che fa caldo Se dovessi avere Troppo caldo Perderei vita O addirittura Potrei anche confondermi Per via del calore Potrebbero venirmi Delle allucinazioni Ok che cos'è che Dovevo fare Fermi Vediamo se posso aumentare Un po' Si Ok tra non molto Posso indossare L'armatura in ferro Quindi potenzialmente Non sarebbe male Craftarsi qualcosa in ferro Eh Voglio dire O no O no Quindi per il momento Lasciamolo qua Ma se io mi salvassi Le coordinate Ehm Dove sono? No dai Non ci sono le coordinate Non le vedo io O non ci sono? Non ci sono Le ha tolte Per renderlo ancora più difficile Non ci posso credere Bello Meraviglioso Quindi sono perso Da qualche parte E non saprei ritornare qua Fantastico Ok Vediamo se riesco a trovare Nell'altro carbone O qualche altro livello In qualche modo Per indossare un po' Di equipaggiamento Mi fa ridere Che ho esplorato Pochissimo Perché ho una paura Incredibile di tutto Allora I dinosauri di solito Sono buoni Non dovrebbe uccidermi Me lo ricordo questo Giusto A meno che li punzecchi Certo Se gli do fastidio Poi potrebbe ammazzarmi Sei buono Vero Dinosauro Visto E' buono Una delle poche creature Che non ti vuole uccidere In questo gioco Oh Oh No Là c'è un ciclope Allora Potrebbe essere la mia fine Però dentro la casa Del ciclope Di solito ci sono Veramente Tanti tesori Che Mi fanno Tanta gola Al momento Potrebbero servirmi Un botto Le cose Dentro il ciclope Come faccio A entrare Là dentro Senza farmi ammazzare Si lo so Che c'è anche Una barca Ragazzi Però vi assicuro Che ci saranno Molti più tesori Là dentro Eh Devo fare attenzione Fatti un letto Non ho abbastanza lana Non sto trovando Delle pecore Da nessuna parte Ok Il ciclope È dentro casa Come faccio A usciterlo Se lo attacco Da dietro Secondo me Ce la potrei fare Ok Questa È una di quelle Che mi rigenera La vita Ciao No Quello è cattivo Quello è cattivo Lo ammazziamo Ci provo Oh Tecnicamente C'ho la rigenerazione Non dovrei rischiare La vita Stamme la larga Morto Stupido Gamberetto Ok Allora Ci provo Raga Il ciclope Mi può fare fuori In un colpo Cioè Se mi piglia Mi mangia Ve lo dico Però guardate Quanti tesori Quante pecore Mi potrei fare il letto Là c'è un castello volante Ok Fermi Oh Piano Uccelli E se tipo Lo attaccassi Da qua Da così Che paura Mi immaginate Me lo trovo dietro Da un momento all'altro Dov'è Dov'è Stupido ciclope Da cieco Ma è enorme Sì Fa un botto di paura E non lo trovo più La cosa Mi preoccupa un po' Dov'è E' andato Ah eccolo Ok Forse dovrei riuscire A prenderlo in testa Da qua Dimmi che ce la faccio Eccolo Mi ha visto Ok Mi percepisce Se avessi un arco Mamma mia Come saresti morto Allora Vediamo se riesco ad attaccarlo Senza farmi prendere Se il buchetto è piccolo Non dovrebbe riuscire Ad attaccarmi Giusto? Vai Sì Prendi questo Stupido ciclope Sì 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 Come mi chiamo io? Nessuno mi chiamo Muori Andiamo Quanta vita c'hai? Non ce l'avrei mai fatta Ad affrontarlo Se non Con questa strategia Eh sì Se ne va No ma tranquillo Non ti stavo soltanto Ammazzando di botte Vai pure dove vuoi Ehi Ma cosa mi ignori? Eh Guardate quanta vita C'ha ancora Ok L'ho fatto arrabbiare Ah Ah Oh 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 È bello che è arrabbiato Ragazzi Ok se lo continuo No 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 Non mi mangi vero? Per favore Che succede? Perché Perché sta diventando Tutto così strano? Ah perché sto morendo di sete Oh no Tempismo No 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 Fermi devo scappare Devo bere Non ci vedo più Non ci vedo più dalla sete Ok meglio Spero che non sia uscito Allo scoperto Eh che cavolo Mi sono preso un parassita No 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 Come faccio? No Ho preso un parassita dall'acqua No 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 Poco fa sono morto Per colpa del parassita Vedete che in alto a sinistra Dice parassita? Come faccio a salvarmi? Ti prego Non mi ammazzare Ok Sto perdendo danno Soltanto nelle gambe Non mi uccidere Non mi uccidere Ti prego Ti prego Ti prego Dai vai via Stupido parassita 20 secondi ancora Eh si è fatta notte pure Ciao Mannaggia Il punto è che Non posso neanche tornare a casa Perché se torno a casa Non c'ho il letto Non ho un punto Dove posso respawnare E non posso vedere le coordinate Perché il creatore del modpack Le ha nascoste Quindi se muoio Perdo tutto Ok sono ancora in vita Ho un'idea Torniamo a casa Aspetto il giorno E poi provo a uccidere di nuovo Il ciclope Aveva tantissime pecore Via 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 Attenzione Oh mamma Secondo me Sopravvivere 100 giorni In questo mondo Sarà molto più difficile Di quel che pensassi Siamo alla bellezza di Che giorno è questo? 3? 2? 3? No scudo Scudo E basta Guarda che mira la testa Non ci credo Sono uno stupido Mi ha laggato Stavo morendo Ok ok Non è un problema Non è un problema Entra dentro casa Ok Il danno è lieve Il danno è lieve La mia gamba destra E' andata La mia gamba destra E' andata Mi serve una fatina Mi serve una fatina Per rigenerare la vita Però Allo stesso tempo Eh se avessi della lana Potrei farmi I medkit Come si fa questo? Eh si ciao Che sono queste robe Vediamo Aspetta Le bende Come si fanno? Carta E cuori Eh Niente Mi serve per forza Della lana Senza la lana Non posso fare le bende Senza le bende Non posso recuperare Questi cuori persi Mannaggia Devo ammazzare il ciclope Devo per forza Ammazzare il ciclope Diamine Sono messo Veramente male Però è divertentissimo Quanto è divertente ragazzi L'avrei dovuto fare Molto prima in live Eh Boh Mettiamo cucinare Sti polli Già che ci sono Mi faccio Un'armatura in cuoio Meglio di niente Meglio di niente Che altro posso fare? Se guardate Se vedete qualcosa di utile Nella mia Nel mio inventario Ditemelo Le stringhe Oh mio dio Sono un genio Oh mio dio Sono un genio Sono un genio Ok Me lo stavate scrivendo Anche voi in chat Quindi l'avrei capito Comunque dopo un po' Però ci sono arrivato La solo Per fortuna Ok Così posso rigenerare tutto Guardate il mio mino Che piano piano si rigenera A destra In basso a destra Fatti una nuova spada Grande Ottimo consiglio Non ho gli stick Non esco Col cavolo che esco E gli stick Non li posso prendere Dalla legna Ve l'ho già detto Mi servono le foglie Dell'albero Ok Dopo me la faccio Che dite Riparo il corpo Non sono sicuro Che questi si rigenerino Si stanno rigenerando Ok Evidentemente Non si rigenerano Devo utilizzare Per forza Le bende Bene Buono a sapersi Forse ho un'idea Con queste Se prendo abbastanza Terra Che ce l'ho già E questa Ah no Non posso Stavo pensando Potrei coltivare Dell'erbaccia In modo da prenderla E ottenere le fibre Con le fibre Posso fare un botto Di lana E con la lana Poi posso fare Tutto ciò che mi serve Quindi tutte le mie cure Il problema è che per farlo Devo essere livello 12 In questo In farming E al momento è livello 1 Visto quanto è complicato Allora iniziamo a aumentare Un po' il farming Piano piano Non sto rigenerando la vita Non sto rigenerando la vita Questo è un problema Maledizione Sto pensando Sto cercando di mettere in moto I cricettini che ho nel cervello Per capire che cosa posso fare Per salvarmi da questa situazione A parte aspettare Che vada via la notte Perché appena andrà via la notte Tecnicamente Posso andare a prendere Degli altri stick E posso provare ad affrontare Il ciclope Vi viene in mente qualcosa a voi? Quali mod usi? Sono troppe Cioè non l'ho fatto in questo pacchetto Se scrivete RLCraft Lo trovate Sono tipo 200 mod Quindi non te ne potrei dire adesso Salve Arrivederci Eh oh Devo aspettare Appena va via la notte Posso fare qualcosa Intanto ne approfitto Per fare una pausa Bagno Arrivo subito Quindi vi lascio qua così Metto in muto Grazie 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 Eccomi qua Sono tornato Allora Posso uscire? No è ancora notte Ci provo Dammi gli stick Dammi gli stick Dammi gli stick Muoviti Dammi gli stick Ok Ho preso uno Mi posso rifare la spada Allora So che molti diranno Fatele in ferro Però non la posso utilizzare Perché avrei bisogno Di livello d'attacco 8 Al momento Il livello d'attacco è 1 Quindi la devo fare per forza In pietra Appena avrò abbastanza livelli Per aumentare il livello d'attacco Potremo Potremo farlo Niente Comunque non sto rigenerando la vita Maledizione Allora datemi un secondo Scusate Chiudo questo Ok Dovreste vedere di nuovo Adesso Recati dalla ninfa Per rigenerare la vita Eh sì Il problema è che Non so dove sia Perché si muovono le ninfe Non stanno ferme Quindi potrebbe essere ovunque Al momento Vieni qua Che faccio livelli facili Stupido Senza Cervello Muori Addio Ah Oh E che No 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 Via Aiuto 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 Me la sono fatta sotto Aiuto No Aveva un parassita nel corpo Aveva un parassita No Non ci provare Muori Chiudi No ragazze no Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Nell'arita reale Per colpo di sto parassita Allora Ammazziamolo così Schifo Che schifo Che mi fai Aiuto Aiuto Anche io mi sono spaventato Ragazzi Non solo voi Pure io Oh mamma Ok Che abbiamo trovato Che è sta roba Che schifo Ok Non me ne frega niente Lo posso buttare Via E' il suo fegato Il fegato del parassita Mamma mia il mio cuore Non mi puoi fare Si scherzi No Ok allora 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 E' giorno Io sto morendo Ho bisogno di pecore Ho bisogno di pecore Per farmi dei nuovi medkit Le pecore Le potremmo trovare Qua in giro Quindi Eh non lo so Se conviene andare a rischiare Di nuovo dal ciclope Cioè avete visto Quanta vita aveva Potrei provare Però magari Se trovo qualche pecore Qua in giro Sarebbe meglio Niente Neanche una Con le pecore Potrei farmi il letto Così Salvo il punto rispawn Ninfa Rigenerami subito La vita Tutta Tutta quanta Si Grazie mille Per uccidere il ciclope Devi colpirlo Cento volte Ammazza Ok Ah no 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 Dove vai Continua a rigenerarmi Fino a full vita Quanto manca Si 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 Ancora ancora E se riuscissi a catturarla Se avessi un laccetto La potrei catturare Che fa sto robo Vabbè Non importa Ok sono full vita Si Grazie mille Resta qua nei paraggi Ti prego Ok E' stato un colpo di fortuna Me la rischio? Vado contro il ciclope? Ne vale la pena Secondo voi? Potrei prendere tantissime pecore Che sembra una cretinata La dire Eh le pecore Rischio la vita per le pecore Però Non solo mi posso fare Tutti quanti i medkit Le bende Che mi servono per curarmi Posso farmi anche il letto Così faccio una cesta Metto tutte le robe E sto OP Non vedo bene la live Prova ad aumentare la qualità Oppure connettiti al wifi Se non sei col wifi Puoi aumentare la qualità da youtube E comunque ragazzi Cioè se avete problemi con la live Al 99% è un problema vostro Perché A me youtube dice che Sto streamando in qualità eccellente Quindi al massimo del massimo Eh no Stavolta non mi freghi Stavolta non mi freghi Beviamo prima Non mi dare il parassita Non mi dare il parassita Non mi dare il parassita Porca miseria Di nuovo il parassita Eh Ok allora Poco fa non mi ha ucciso Ecco Fantastico Maledetto parassita I miei stivali Io ci provo comunque E qua Forza stupido Ehi Ciclop Mister ciclopone Ah Oh Ah il parassita Ok ok Fin quando non è lui che mi mangia Sto tranquillo Perché lui può letteralmente mangiarmi Cioè Mi mette in bocca E mi mangia Per fortuna è stupido Torno dalla ninfa Eh mi sa che mi conviene Però se mi butto da qua Lui mi ammazza Devo fare il giro Non deve vedere dove vado Perché se mi vede Sono morto Ok Forza 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 Quanta vita ho perso Un botto Un botto Per colpa di uno stupido parassita Per l'acqua Mi devo fare le bottigliette D'acqua potabile Perché bere questa È un rischio ogni volta Mi avvelena Ah le cucina la sabbia Poi fai il vetro Geniale Geniale Grazie Non correre quando hai il parassita Ah Secondo voi se non corro Il parassita non mi fa nulla? Veramente? Forse avete ragione Mi sa di sì Allora Prendiamo otto di sabbia Così mi faccio Mi faccio la bottiglietta Intanto Dov'è la ninfa? Che mi rigenera la vita Questa live dovrebbe chiamarsi Prova a uccidere un ciclope Per Un'ora e otto minuti Cioè ancora Non l'ho scalfito Non vedo la ninfa No è andata via Dai No Ve l'ho detto Non resta sempre Nello stesso punto Magari Abbiamo avuto Una botta di fortuna Prima che non ci avete idea Allora io intanto Devo ricordarmi Di chiudere le porte Quando esco Perché se mi entra Un mostro Qua dentro Lo sono fregato Dai Ninfa Dove sei? Non c'è Va bene Va bene Va bene No problemo No problemo Allora Quindi così posso fare l'acqua Come faccio a fare l'acqua potabile però? Questa è potabile? Non lo so No è questa È l'acqua purificata Che devo fare Eh? Non è possibile che si fa così Ah ok È dell'acqua normale Messa dentro La fornace Ok chiaro Chiarissimo Allora Mi devo liberare Di tutta sta spazzatura Inutile che c'ho qua Mi è venuta un'idea Mi potrebbe aiutare tantissimo Nei combattimenti Devi cuocere l'acqua Sì 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 Capito E se mi facessi l'accendino Lo posso utilizzare? Ah ma che faccio? Col flint Posso usarlo? Sì Ottimo questo Ok dare fuoco ai mostri E OP Buttiamo la spazzatura Tutto ciò che non mi serve Via Questa la posso usare? Nei combattimenti? Sì Bene Benissimo Ok Ok Questo ancora no Perché non ho abbastanza livelli Benissimo Così dovremmo avere Come si facevano le bottigliette così? Esatto Un botto di bottiglie d'acqua Ora devo andare a riempire Via libera E adesso le mettiamo subito A cuocere Così purifichiamo l'acqua E diventa potabile Ok Uh Grande Devi utilizzare i livelli Per aumentare i punti d'attacco Sì Però Il problema è che io volevo aumentare l'armatura Così da indossare questo Però effettivamente hai ragione Sarebbe meglio aumentare anche un po' l'attacco In questo modo dovrei riuscire A diventare anche più forte Siete pronti? Beviamo l'acqua Ah Non mi ha più avvelenato Nessun parassita dei miei stivali Let's go E adesso mi faccio pure un botto di fornaci Così ne posso fare tante più velocemente Ok Lascia non lo posso utilizzare per spaccare le cose Perché mi serve il livello 8 No problema No problema amico Allora Adesso facciamo così Spluff 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 E Spluff Tutte queste belle bottigliette d'acqua Adesso me le metto qua Così non dovrei più rischiare di morire di sete E neanche mi piglio i parassiti Solo che si sta per fare di nuovo notte Ma porca miseria Ma quanto dura il giorno e la notte? È pochissimo Ok Acqua 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 Boom Sono pronto? Che dite? Andiamo a ammazzare quel cavolo di ciclope? Chiudiamo le porte Io direi che sono pronto All'avventura! Ok basta Ora non mi può più fermare nessuno Lo faccio fuori Lo faccio fuori E gli rubo il bottino Tutte le sue cose saranno mie Non posso più morire Sono diventato Ineluttabile Ci sono i draghi? Sì E per fortuna non li abbiamo incontrati Perché altrimenti era game over Mi spaccavano Anche se hai un'armatura full diamante Il drago ti spacca in due Cioè quindi proprio devi starci alla larga Dove che quello era? Eccola Oh piccolo lag Scusate Ogni tanto carica il mondo E tira qualche frizzata Signor ciclope Noi ci incontriamo per la terza volta Eccolo là Stupido tontolone Sono ancora dal ciclope Sì Perché è estremamente difficile batterlo Dov'è? Fatti vedere Stupido Ho bisogno Di tutte le tue cose Eccolo Oh non è che sta uscendo? Raga se esce devo scappare Se esce fuori di casa devo correre Ve lo dico Dai avvicinati Andiamo Su su Dai Vediamo chi avrà la meglio Io o il ciclope Oh no 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 Non mi devo avvicinare così tanto Mamma mia che paura Come faccio? È impazzito È impazzito È arrabbiatissimo con me Mi odia Dai Fatti pigliare Mi sa che non posso usarla Lascia Torniamo con la spada Ah quanto è arrabbiato Ok ora lo piglio Lui non può raggiungermi vero? Da qua Spero Eccolo Sì Ma se avessi della lava Accentino Non lo posso piezzare ovviamente Se avessi un secchio di lava Guarda lì Le pecore dorate Ah schifoso Rischioso Quello che ho appena fatto È molto rischioso Da qua penso che potrebbe prendermi Eh dai Maledetto Idea Mi abbasso ancora di un blocco Ecco Ora sì Perché non prende più danno? Ok C'ha il 70% di vita È un quarto d'ora che lo colpisco Dai Ti piglio quei colpi critici Ti faccio vedere io Sì Andiamo Accendino Dagli fuoco E come faccio raga? Non posso Devo posizionarlo per terra Il fuoco E non ho intenzione Di avvicinarmi a lui Questo mi scassa Ve lo dico Mi può letteralmente uccidere In mezzo secondo Questo è l'unico modo Che ho per ucciderlo adesso Quando poi sarò equipaggiato meglio Forse Ma la posso fare Dai Vai Spamma Spamma Muoviti Perché non ti avvicini? Perché mi può mangiare E non lo dico Tanto per dire Cioè può letteralmente Prendere il mio corpo Infilarselo in bocca Mangiarmi E uccidermi con un solo corpo E preferisco evitare Non so voi Ma non mi piace Essere mangiato dai ciclop Cerchiamo di ucciderlo In modo tranquillo E sicuro Lo hai distrutto Eh più o meno Utilizzando l'astuzia Astuzia che lui non ha Perché è stupida Dai dai Che sei morto Speriamo non esploda Come il cosmic find No 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 Ok Fatti colpire ancora 2% Mezzo morto Morto Sì Mi si è rotta la spada Mentre l'ho ucciso Oh no È notte Ok Questo può essere un problema Tu che cosa sei? Perché mi stai puntando? No No Avete visto che mi ha afferrato Quell'aquila Lasciami stare Non ci devi nemmeno provare Sali? Non riesco a salire No ragazzi Non mi funzionano le gambe Sono pesante No 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 Come? Perché? Non ci credo Non dopo tutto questo tempo Ero troppo pesante Avevo troppe cose nell'inventario Non ci posso credere Ok Se non altro adesso capite Che cosa è La RLCraft E per quale motivo Dico che è il pacchetto Più difficile di Minecraft E io Ho intenzione Di diventare un pro Ci alleneremo Ogni settimana In live Fin quando Non diventerò Un pro Questa è una promessa Continuate a seguire Tutte quante le live E noi ci vediamo La prossima settimana In diretta Ciao